adesso mi dovrebbero sentire non so perché il pubblico a un certo punto non mi sentiva ma adesso dovrebbero sentirmi ho fatto un monologo praticamente da solo però loro mi sentivano questo è importante i ragazzi con i quali sono collegato mi hanno sentito quindi questo è l'importante tutto ok ragazzi niente panico sono riuscito a fare questo fix proprio rapidissimo beh ragazzi solstice che si è mostrato per la prima volta proprio alle 3 di quest'anno un e3 che ha veramente avuto un contenuto variegato e sento ancora un po di ritorno ragazzi vi chiedo gentilmente se riuscite a mutare grazie mille dicevo un e3 veramente pieno di contenuti ma che secondo me ha visto il vostro progetto veramente tanto tanto brillare perché per me è stato uno degli annunci più piacevoli e lo è stato anche per diversi insomma nostri utenti quindi vorrei che ci raccontaste un po' del nostro del vostro solstice a breve lo farò vedere anche a schermo farò vedere in loop il trailer che è stato insomma mandato anche in onda durante il pc game show ho fatto i compiti a casa vero pc game show però ecco vorrei che ci raccontaste prima magari a livello narrativo che cos'è il mondo di solstice a cosa vi siete ispirati per crearlo e quale storia ovviamente in linea di massima volete raccontare con questo progetto Allora diciamo che da un punto di vista creativo il progetto nasce fondamentalmente un po' a tavolino attraverso una serie di meeting ristretti tra me e il reparto di design per definire un po' quello che sarebbe stato il nostro terzo progetto Diciamo che nel mondo dello sviluppo il terzo progetto per uno studio o comunque per un team è un po' il progetto che potrebbe definire un po' la maturità dello studio no? Certo E quindi ci abbiamo pensato bene e da subito abbiamo capito che la cosa che ci interessava di più sviluppare era sicuramente un gioco combat based Ok Combat based allo stesso tempo un gioco combat based doveva avere comunque sia un protagonista molto particolare e comunque avere diciamo un communication hook che si distinguesse da possibili competitor E quindi abbiamo cominciato da queste basi pensando al gioco e da subito ci siamo focalizzati sulle ipotetiche dinamiche di non un personaggio singolo ma una sinergia fra due personaggi che combattessero assieme fondamentalmente Certo Si è trattato non soltanto di decidere che gioco fare ma anche che strada intraprendere come studio Per cui ad esempio l'idea di un gioco che si focalizzasse sul combattimento dopo Teseus era importante perché in Teseus ogni contenuto lo usavamo praticamente una volta sola Teseus era un'avventura molto d'atmosfera quindi ogni singolo scorcio ogni singolo arrivo del mostro rappresentato da Minotauro questa cosa chiaramente è molto costosa Mentre poi con Fabio praticamente determinando poi quelle che sarebbero state le basi della produzione successiva ha detto dobbiamo trovare un modo per fare tanti contenuti di qualità Ma poterseli giocare non su due ore di gioco ma su un orizzonte più ampio Anche il discorso poi dello stile di cui sicuramente Fabio potrà parlarvi è stato oggetto di un ragionamento rispetto al punto dove eravamo partiti Le cose che ci piace fare quindi questo che abbiamo per il dark fantasy ma ha declinato in un modo che potesse essere più diciamo personale e distintivo E farci un po' da apripista, biletto da visita anche rispetto alle altre produzioni che ci sono sul mercato Certo, io guarda adesso sto per mandare proprio il trailer direttamente in onda anche per i ragazzi che ci stanno seguendo Così magari è anche più semplice seguire da questo momento in poi nel momento descrittivo del progetto dei personaggi che avete citato Proprio il cuore narrativo magari di questo titolo Però prego, voglio, siccome avete parlato del doppio personaggio noi abbiamo visto questa sorta di spirito che segue la protagonista e che in realtà è una sorella Se non mi ricordo male È la sorella della protagonista e viene rivelata, non sono teorie, non sono supposizioni, non sono partito in quarta Cioè lo dicono esplicitamente nel trailer Però ecco, insomma, ho intuito un po' di questo anche gameplay che viene giocato come una partita di tennis Tra la protagonista e lo spirito che la segue, quindi vorrei che ci spiegaste proprio di più di questa dicotomia Allora, diciamo che io parlo più dal lato creativo e di gameplay Poi lascio a Samuele che è fanatico di tutta magari la parte più narrativa legata all'ora, eccetera Diciamo che da subito quando ho potuto permettermi di decidere come vestire quest'idea del core, del dual character La prima cosa che mi è venuta in mente fondamentalmente è stato Berserk Ovvero Gatsu quando indossa per la prima volta l'armatura del Berserk E hai Sirky, la piccola strega che entra nella sua testa per cercare di riportarlo alla sanità mentale Lo hanno riconosciuto in diversi questa reference, l'hanno piccata in diversi Esatto, quindi quella è stata la prima cosa, ho detto deve essere così E sono partito anch'io da un personaggio maschile e uno femminile Poi Andrea, un nostro designer mi fa Fabio, secondo me è più interessante fare un qualcosa tra due ragazze, magari sorelle E subito gli sono andato dietro Anche perché l'altra grossa reference che avevo in testa è un boss di Dark Souls 3 Ah, aiuto, io non l'ho giocato Però, ok Vabbè, se non l'hai ancora giocato non vuol dire che non lo giocherai mai, quindi non è spoiler No, invece sì, lo sto, lo sto, sto rigiocando la trilogia C'è un boss molto bello Ok Che è composto proprio da due personaggi che combattono in un abbraccio E per me questa cosa è poesia, è poesia nerdica pura Ok E allora queste due cose dovevano per forza far parte della parte visiva del gioco Ma anche di gameplay, infatti Anche se quello che abbiamo mostrato è veramente poco Seppur comunque il ritorno è stato veramente grande Vuoi per la tipologia di gioco, vuoi per le reference usate La tipologia di gioco è, a prescindere dal titolo Che il titolo ha puramente un senso narrativo all'interno del gioco È una che slascia il stile Davy McRae, Bayonetta, Nero Automata Sì E che abbiamo studiato alla nausea in questi tre anni di sviluppo ormai Per realizzare il gioco migliore E abbiamo collegato, diciamo, a questo tipo di gameplay Un personaggio che è Luth in questo caso, che è il fantasma, lo spirito Ok Che funge fondamentalmente da intelligenza artificiale parallela Ovvero non è un contestuale vestito da character Ma è un character che agisce da solo Quindi protegge la sorella maggiore Blocca dei colpi, rallenta dei nemici Manda al mittente dei colpi, eccetera Ci stiamo vedendo Dove Dove praticamente Continuando a combattere A seconda del valore di sinergia fra i due sorelle Ovvero quanto il giocatore è bravo nel gioco Rispetto alle combo che fa, eccetera Questo valore di sinergia cresce Luth comincia a duplicarsi E a prendere più di un target alla volta Ok Per poi sfociare in delle cose che non vi racconto Perché sono ovviamente spoiler Ma date le reference Ma date le reference E qui ci metto dentro anche Claymore Potete immaginare che cosa succederà Insomma Ok, quindi questo è Quindi Luth alla fine diventa Sia una I parallela Ma anche funge da Una specie di alert contestuale Un po' come succedeva in Batman Il combat system di Batman Che è eccelso Che è un altro gioco Ma il feeling che abbiamo A un certo punto È quasi quello Ok, quindi un'unione proprio Di un tool da combattimento Ma anche di una gestione generale Del gioco attraverso questo personaggio Esatto Quindi diciamo che proprio L'antipasto è questo Insomma Ok Ok Michele Vuoi addentrarti ancora di più Nel contesto proprio di Soulstice? Perché in realtà è stupendo Il fatto che le meccaniche di gioco Siano contestualizzate in maniera diegetica Così Cioè che questa energia in qualche modo Renda il suo ruolo Quello anche di Gameplay specifico Di meccaniche intorno Al capire cosa succede intorno Penso al pod di Nier In questo caso Stiamo pensando tutti e due Al pod di Nier Immagino Esatto Esatto Infatti in realtà È difficile Decidere cosa domandare Su cosa richiedere approfondimento Perché io ho chiesto proprio Anche alla mia community Qualche curiosità Che potessero avere Nel tempo di preavviso Ho avuto Ho chiesto proprio ai ragazzi Cosa volessero sapere Bisogna capire quanto è Condivisibile e quanto no Però Proprio in nome dell'approfondimento Di quello che sono le meccaniche Anche in slash Di combat Molti Più di uno Hanno chiesto Se avete intenzione Se si può dire Di avere un meccanismo Di Punteggio Cioè se in qualche modo Ci sarà una meccanica Di Premiazione Punteggio Canceling Delle mosse Stai pensando David McRae La mia risposta è Per forza Nel senso Oh bene Questi giochi qua Cioè questi giochi Allora Questo genere È Un genere sdoganato Certo Non abbiamo La La presunzione Di competere Con dei AAA Di Capcom Di Square Il nostro è un AA Ma è un AA A 100% Non è poco Esatto Il gameplay Per noi Viene per primo Infatti La cosa carina Che hai detto prima Esatto Qualsiasi dinamica Narrativa Deriva in gran parte Dal gameplay Io ho cercato Di investire Il gameplay Non ho fatto La storia O i personaggi Con Samuele Per poi dire Ok adesso Createci sopra Il gameplay È stato un processo Io sono tranquillo Nel dire Al 90% Al contrario Ok Assolutamente così E onestamente Poi ci sono Chiaramente Tanti approcci Diversi E giochi Che si propongono Di divertire L'utente In maniera diversa Quindi Se il tuo scopo Principale È raccontare Una storia Allora Creerai Delle meccaniche Di gameplay Che ci vanno dietro Ma visto che Il nostro è un gioco D'azione Tutto quello Che abbiamo fatto È stato cercare Di renderlo Più interessante Di dare Quel qualcosa In più Per appassionarsi Per poter Sapere Cosa succederà Dopo Conoscere Il background Del protagonista Eccetera Ma con il gameplay A fare Sempre comunque Da Da traino Vi faccio una domanda A bruciapelo Perdonami Visto che Stiamo insomma Parlando di cose Che mi fanno Venire in mente Certi titoli Siccome appunto C'è questo collegamento Che io adoro E che immagino Anche il pubblico Adori come Michele Tra gameplay E storia Che invece Spesso e volentieri Sono Vissuti Come due elementi Separati Che a volte Non si toccano Pericolosamente Mai Allora Vi chiedo Quanto Valutereste Story driven Il vostro Soulstice Cioè Era la mia Prossima domanda Che ho fatto Proprio schiaccia sette Quanto Nonostante Magari Mi permetto Questa cosa Nonostante Magari Il genere Non sempre Lo richieda Perché a volte Ci sono veramente Degli Hack and slash Se così li vogliamo Definire Che hanno Storie molto Basilari Quanto invece In questo caso Soulstice Visto anche Il personaggio Così collegato Alla protagonista È story driven Effettivamente Ci siamo impegnati Tanto su questo versante Anche perché Tornando al gameplay Scusate Non è un gioco Nel momento Punitivo Quindi ci sarà Un livello facile Per chi vorrà Godersi la storia I personaggi Il mondo E a quel punto Magari andrà Più a cercare La propria soddisfazione Il proprio divertimento Per chi gioca Normale o difficile Comunque deve essere Qualche cosa Che accompagna L'azione Poi la struttura Dei livelli Si può dire Che è lineare Quindi anche Il racconto Procederà Attraverso Colpi di scena Archi narrativi Dei singoli personaggi Comunque Il loro rapporto Di sorelle È al centro Del gioco Ma non solo Per cosa significano L'una per l'altra Ma anche rispetto Al ruolo che hanno In quel mondo lì Le aspettative Che ci sono Su di loro Come sono arrivate A trovarsi In questa condizione Quali sono i personaggi Che trovano Nel corso della storia Con cui hanno a che fare Quindi Lo strato lì C'è E veramente Abbiamo messo Tutto l'impegno possibile Per renderlo interessante Però siamo sempre partiti Da dire Ok se c'è qualcosa Che ti stiamo raccontando In qualche modo Ci devi giocare E se c'è qualche cosa Che ha tanta importanza Lato Lato gameplay Allora cerchiamo Di contestualizzarla Di darle una profondità Di darle un senso E di raccontarci Sopra una storia Sì sì Anche perché Ora io sto Riosservando il trailer E vedo all'inizio Un mosaico Che racconta tanto C'è questa sorta Di cavaliere Con una corona E una spada Dei predicatori Che gli vanno dietro Quindi ci sembra essere Anche un lavoro iconografico Attorno a Solstice E per me è sempre Super apprezzabile Tra l'altro Domanda ancora una volta Brucia pelo Tutto quello che vediamo È in engine Nel trailer Yes no Allora Sono asset in game Questa sequenza iniziale Non è renderizzata In real time È stata renderizzata Apposta Ma sono tutti asset In game Ok E poi chiaramente Le sequenze di gameplay Sono sequenze di gameplay Sì 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 anche la scena Allora diciamo che Tutto il trailer È in engine Diciamo che La scena dell'erosone Non è in engine Ma lo sarà Perché quella è Spoilerino Una cinematica Che abbiamo All'interno del gioco Tutte le cinematiche All'interno del gioco Sono molte E sono tutte real time Sì sì Ecco Già il fatto che siano molte Per me almeno È ovviamente Un Insomma Ma una cosa Iper positiva È che mi fa Salire la curiosità Per il progetto Appunto Perché come Vi spiegavo prima A mio avviso Forse Si è perso un po' Il valore Delle cinematiche Della storia In progetti del genere Forse mi verrebbe Forse mi verrebbe da dire Michele Correggimi se sbaglio L'ultima volta Chi lo ha fatto Devil May Cry 3 Di fare veramente Una storia dentro Un hack and slash Non so se ti vengono in mente Altre cose E anche il 5 Cioè un pochino più Sì Capisco cosa vuoi dire Capisco Cosa vuoi dire Però Guarda Una cosa Secondo me Importante Come ha detto Samuele Allora Il gioco È un gioco Lineare Story driven Ma è prettamente Un gioco di combattimenti I livelli Sono esplorabili Abbiamo la fase Di esplorazione Puzzle solving Con dei detour All'interno Dei livelli Non è level design Di un metroidvania Non è level design Di un dark souls È un level design Propedeutico A raccontarti una storia E a farti Combattere Molto E tutte le cinematiche Che noi abbiamo inserito Sì servono A raccontare Meglio La storia Ma veramente Il loro scopo È quella di esaltare Il giocatore Cioè io volevo Cercavo La stessa sensazione Che avevo Quando io guardavo Berserk Guardavo Dragon Ball Quando Goku Si trasforma Per la prima volta In Super Saiyan Quando Gatsu Mette l'armatura Del Berserk La prima volta Quando Claymore Svampira Ma riesce A trattenere I suoi poteri A controllarli Io saltavo Dal divano E mi esaltavo Io volevo Nel nostro gioco Arrivare A far provare Agli utenti Giocando La stessa cosa Che si prova O che ho provato io Durante La visione Di questi anime In questi momenti Ok È super ambiziosa Tra l'altro Come fine Come scopo Quindi Davvero Insomma Mi state facendo Salire la voglia Effettivamente Voler creare Un coinvolgimento Purissimo Istintivo Già 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 Davvero E Per quanto riguarda Invece La struttura Del gioco Proprio In linea generale Possiamo Aspettarci Tante Orde Di nemici Da Colpire Oppure Siete andati Più per una gestione Del singolo Combattimento Contro il singolo Mostro Con moveset Un po' più complessi Perché Abbiamo visto Negli hack and slash A volte Orde di persone Orde di Demoni Da uccidere Che quasi Scappano nel museo A volte E invece Altri Hack and slash Un po' più tecnici Dove c'è meno confusione Diciamo Dove il pendolo Ha cominciato a oscillare Nel progetto Solstice Allora Sicuramente Non è un museo Nel senso che Abbiamo Dei combattimenti Chiaramente Tutto il gioco È soggetto Da una curva Di progressione Che prevede Di farti Imparare A giocare A Solstice Solstice Non è punitivo Ma non prevede Il button mashing Nel senso che Ecco Il button mashing È un classico Di 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 Diciamo Che in Solstice In Solstice Se Usi il button mashing Sei abbastanza Penalizzato Ma oltretutto Il gameplay Prevede anche L'utilizzo Di due Aure Specifiche Che vengono Castate Dalla sorellina Da loot Che hanno Effetto Sul player Alcune Aure Sul player Aure Cioè Non The buff Ma Buff Che permettono Alla soella Maggiore Di interagire E quindi Danneggiare Alcune famiglie Di nemici Piuttosto che Altre Quindi A prescindere Da button mashing Se non Usi le aure Non procedi Nel gioco Ok Quindi Tornando a bomba Il gioco È Incrementale Abbiamo Dei Combattimenti Con Pochi Nemici Combattimenti Con molti Nemici O magari Con pochi Nemici Ma molto Tosti Ma non c'è Il senso Del souls Cioè Uno contro Uno E potrei Morire Contro il primo Scheletro Se non uso Lo scudo Per esempio Quello Non è Ma non abbiamo Nemmeno 50 nemici Da affronteggiare Con mosse Ad ampio Raggio Perché non è Quello Il gioco No no Infatti Però sai Siccome appunto Ormai anche lì Il confine è un po' Labile A volte Allora ecco Il perché Della mia domanda Ma ok Ho inquadrato In realtà Guardando il trailer Ora lo faccio Ancora una volta Vedere anche I ragazzi a casa Noto effettivamente Che i numeri Il numero Insomma Dei nemici È coerente Con quello Con quello Che mi avete detto E a livello di armi Vedo che c'è un'arma Che si trasforma Però giusto? Esatto Esatto L'arma Scusami Samuel Sto parlando Solo io No 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 Io ti lascio andare Perché sono cose Più vicine Vedo questa spada Che diventa Un'ascia Da subito Io non volevo Un personaggio Che non avesse Un'arma Che lo definisse Cioè Non mi piacciono I personaggi Che hanno Nell'inventario Il bazooka Ma non lo vedi No? E quindi Io ho pensato Subito Che a livello Visuale Se qualcuno Deve rappresentare Il nostro personaggio Lo deve rappresentare Con un'unica arma Poi il gioco E ve lo dico già Ha le armi secondarie Ha la progressione L'upgrade Tutto quello che volete Però l'arma primaria È una signature weapon Che noi abbiamo derivato Da delle armi Abbastanza famose Come la La Buster's War Di Final Fantasy 7 La spada Di Gatsu Ma allo stesso tempo Io ero innamorato Delle Delle Switch Axe Di Monster Hunter E delle Switch Weapon Di Bloodborne Quindi Abbiamo una spada Che può essere Trasformata A due anime Una più da botta E una più da taglio E poi Viene coadiuata E mischiata Nel sistema di combo Con tutta una serma Di armi secondarie Ok E quindi C'è anche una componente Proprio di equipaggiamento A questo punto Delle singole armi Sul personaggio Esattamente Come in i giochi Reference Tu man mano Progredendo nella storia Cedi ad una serie Di armi secondarie Che puoi decidere Di Incrementare Di fare degli upgrade Oltre che a Poterne Attivare Delle mosse Specifiche E in più Mixarle A tuo piacimento All'interno Delle combo Guarda Un'ultima domanda Sul gameplay Se potete rispondere Perché sarà Molto specifico E poi Mi chiedo E lascio anche Fare delle domande A Michele Perché se no Sono cattivissimo Devil May Cry 4 Penso a Devil May Cry 4 Introdusse qualcosa Che poi insomma Ha fatto un po' Ha creato un po' Un trend nel genere Che è il grab Del nemico No Non si vede qualcosa Del genere Nel trailer Ma vi chiedo Ci sono anche spell Di mobilità In Solstice O dovremo Approciare gli avversari Semplicemente Camminando Non ho Non ho capito bene La tua domanda La domanda è La domanda è Possiamo attirare Velocemente Il nemico A noi Oppure Spostarci Velocemente Verso il nemico Con un Magari una mossa Particolare La mobilità Del personaggio Sarà elevata Oppure Sarà un combo game E quindi poi Lo spostamento Di per sé È Diciamo Inserito solamente Sulla levetta Sinistra Punto No Ok Abbiamo Abbiamo Delle Allora Diciamo Che le armi Secondarie Danno vita Anche A delle opzioni Che l'arma Primaria Non ti permette E abbiamo Delle armi Che ti permettono Di Spararti Direttamente Con tutto Target Per esempio Ok Ecco Perfetto Quindi Sì C'è le armi Secondarie Siccome Produrre Questo È risaputo Produrre Videogioco È molto Costoso In termini Di Budget E di Energie Umane Ok Quando tu Hai un gioco Del genere Devi definire Delle armi Secondarie Non lo fai Perché Mi piace Lo scudo Mettiamo Lo scudo Mi piace Lascia Bipende Lo fai Sempre Attraverso Delle decisioni Di gameplay Che cosa Serve Dare Al giocatore Per avere Varietà Ed avere Delle armi Migliori Dell'arma Primaria Rispetto A una Certa Categoria Di Nemico Certo Quindi ci sarà Anche proprio Una gestione Delle armi In base Come appunto Il genere Richiede Del nemico Affrontato Cioè il giocatore Potrà Combattere I nemici Con tutte Le armi È chiaro Che ci sono Armi Che sono Più Vantaggiose Consigliate Quando hai Tantissimi Nemici Attorno O quando hai Dei nemici In armatura Per esempio Se hai dei nemici In armatura La prima cosa Che devi fare È togliergli L'armatura Certo Ad esempio Perfetto Comunque Noto Tante idee Anche in questa Intervista E sono contento Perché insomma Avevo il piacere Di mostrare Questo gioco Attraverso Tante informazioni E siete veramente Una cassaforte Di informazioni Oggi Quindi sono contento Prego Michele Se vuoi aggiungere Altro riguardo Il lato gameplay Se vuoi chiedere qualcosa Ma una cosa c'è Perché in realtà Le risposte sono Super esplicite Completissime Nel senso Che È vero Uscendo poi Un sacco Di approfondimento Piacevolissimo Ma in realtà Non ti sto dicendo Niente Noi con poco Facciamo tanto In realtà Questa tua ultima Affermazione Ci dice ancora di più Ottimo Guarda Allora guardate Una domanda Che potrei farvi È A livello proprio Creativo E di bilanciamento Di gioco Le vostre intenzioni O desideri Nei confronti Della difficoltà Nel senso È un Knack and Slash Che però vuole essere Comunque avventuroso E un'esperienza lineare Story driven Che ti porta In quell'ottica In quel mood De gameplay Fino alla fine O l'essere Challenging O comunque difficile A livello tecnico Fa parte Degli obiettivi Che vi siete posti Nel bilanciamento Di gioco Possibili approcci Dicevamo prima Allora La difficoltà Come Titoli di reference Se tu prendi Io ho giocato David McCray 5 Non avevo voglia Di fare le combo Ho giocato A livello Non mi ricordo più Normal O quello sotto Diciamo che L'ho finito Quasi guardando Da un'altra parte Chiaro È chiaro Che poi attivi Le altre modalità Come Facciamo un altro esempio Più Più pratico Perché ci ho giocato Ore e ore Nier Automata A normal È facile Sì 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 Poi diventa Terribilmente Tecnico e brutale Se tu vuoi vedere Il gioco vero Devi non salire A livello Difficile Di più E poi dipende Dalle fight Però sì Capisco quello Che vuoi dire Esatto Qui la stessa cosa Cioè chi Non è un hardcore player Ma Gli piace Quell'immaginario Gli piacciono Le reference Gli piace Berset Gli piace Clemo E vuole comprare Il nostro gioco Si troverà Di fronte Un gioco Piacevole Che finirà E sarà soddisfatto Chi invece Cerca Il sangue Dalle orecchie Lo troverà Sicuramente Quindi ci sono Decisioni Del giocatore Rispetto alla difficoltà C'è una scelta Non è un equilibrio Di setup Poi ripeto Io I miei designer Per noi La bibbia Dice Il gioco Normal È come Gli sviluppatori Ti vogliono far giocare Il loro gioco Ok Piuttosto Faccio easy Super easy E pokemon Non lo so Vediamo Piuttosto Aggiungiamo Dei livelli Di difficoltà A scendere Però Per me La normal È come io Voglio che tu giochi Quello che ho fatto Poi Se vuoi Farti un bagno Nel sangue Va bene Però sì Gioco Se la domanda è Avremo i livelli Di difficoltà Assolutamente sì Perfetto Sì sì Alla fine si arrivava a quello Ottimo Eh io Insomma Sono contento Quando Vengono Create Esperienze Che possono essere Anche challenging Perché soprattutto Poi dopo aver Insomma Navigato tanto Nel genere E come noi L'ho fatto anche Il pubblico Ci sta magari Avere la possibilità Di essere da subito Messi un po' più In difficoltà Però comunque Quindi la normal È il vostro Standard Di difficoltà Del gioco Il gioco Diciamo Il progetto Anormal Viene vissuto Come voi Lo avete Pensato Giusto? Io Il designer Ho chiesto questo Sì 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 Ok ok Vedremo E secondo voi Questa normal Sarà challenging Per le persone Che hanno Magari già Un'esperienza Sul genere O dovranno Subito partire Da un livello Superiore Se è possibile Io penso Che Io penso Che gli hardcore Player Automaticamente Spesso non giocano Normal Anche se gli dici Ok però Per me Normal Sarà un'esperienza Equilibrata Non frustrante Ma non Vado avanti Fischiando Quello Un boss Ogni tanto Mi trebbia Anche in normal Il concetto È un po' quello Ma infatti Dalle esperienze Che abbiamo avuto Sul playtesting O quando abbiamo Fatto provare i boss Normalmente Ci vuole un po' Perché comunque Devi anche capire Come approcciarli Quindi Poi quando Lo capisci Magari Non è così Difficile Ma prima Devi arrivare A capirlo A Assimilarlo E poi c'è il meccanismo C'è il meccanismo Delle aure Che è sempre lì Come diceva Fabio Prima Le aure si usano Per i nemici Si usano per i boss E c'è un boss Le utilizza in maniera Diversa Si usano anche Per l'esplorazione Dell'ambiente Per i puzzle Quindi Un minimo di testa Ci sarà sempre Da metterlo Quando si parla Di difficoltà È difficoltà Per chi vuole Approfondire Il sistema di combattimento Trovare soluzioni Personali Eccetera Non è tanto Appunto Per avere un gioco Che sia punitivo Per il gusto Di esserlo Questo per noi Non è un pregio Non lo consideriamo Un pregio In un gioco così E non Non è la strada Che abbiamo Certo Per chi decide Approfondire Vogliamo che ci sia Tanta carne al fuoco Da poter dire Ok sono soddisfatto Si vede che chi Si è messo a fare Questo gioco Ha studiato Assolutamente Faccio Faccio un'altra domanda Che mi viene in mente Viste le risposte Precedenti Si parla di aure Si parla di armi Che possono essere Equipate Insomma E modificate Nel corso Della storia E quindi mi chiedo C'è anche Una componente Minima RPG O comunque Queste armi Una volta ottenute Hanno quella forza Quella potenza Quella velocità E non è possibile Migliorare La loro prestazione Lo chiedo Semplicemente Perché appunto Anche altri Hackenslash In passato Hanno cominciato A sporcare Tra mille virgolette La loro struttura Anche io Ecco Te le sto bruciando Tutte È giusto Nel senso È un hackenslash Però abbiamo Appunto Anche l'eco Di qualche parametro GDR Per il protagonista Oppure skill tree Ecco sono domande Molto specifiche Che vanno un po' Magari Io starei attento A parlare Di elementi RPG Perché altrimenti Le persone Cominciano a viaggiare E a farsi Delle idee Strane Allora Noi abbiamo Studiato Il genere E abbiamo studiato I titoli Per noi Migliori Reference Quindi Abbiamo seguito Un po' Quello che è Il trend E quello che viene Fatto dai grandi Quindi le nostre armi Si potranno Migliorare Migliorare A livello Di prestazione Ok Quindi Però Poi bisogna capire Che cosa Voi o comunque I giocatori Si immaginano Con elementi RPG Diciamo che Chi cerca Una Un prodotto Che può essere Il giusto Il giusto prodotto Tra Un Nier Un Bayonetta E un Devil May Cry Secondo me Non rimarrà Deluso Capito Questo Questo è Sì 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 Ma io mi riferivo Proprio A elementi Simili A quelli Presenti Nei giochi Che sono stati Adesso citati Penso Non so Al ramo Di skill Di un Dante Che può Livellare La Royal Guard O il Trickster In Devil May Cry 3 E pensavo Una cosa del genere Magari applicata Anche a Solstice Ovviamente Non si parla Di uno Scheletro Di statistiche Per i personaggi Ma magari Di una Arma Potenza A livello 1 2 3 Aura Secondaria A livello 1 2 3 E così via Dicendo Quelle piccole cose Che però Magari Permettono al giocatore Di personalizzare Il proprio game plan La propria esperienza Ecco il proprio approccio E tutto Applicato sui due personaggi Peraltro Perché poi chiaramente Rispondono a logiche diverse E quindi ciascuno ha Le sue logiche di progressione Oh Interessante questo Molto interessante Anche io sto Annotando Tutto il progetto È stato basato Sul gameplay E vestito sul gameplay E quindi diciamo Che se parliamo di progressione A parte le armi È chiaro che cadiamo Ancora sulle sorelle La loro relazione E quindi avranno Delle progressioni Diverse Ok Ma proprio a livello Di design Diverse Lut avrà Una progressione Che non è quella Di briare Viceversa Ok E ci fermiamo qua Perché se no I designer Entrano qua dentro E mi sparano Ok Io comunque vedo Tra l'altro Ancora Io sto metabolizzando Il trailer Mentre parliamo Voi non lo sapete Ma in background Ho il 20% del cervello Che sta analizzando Quello che vede Quindi vedo salti Molto elevati Anche una schivata Un dash Ho notato Quindi insomma Ci sarà credo Anche quello A livello di mobilità Mancanza di A o E In quel martello Che è molto interessante Per il dodge Esatto Eh ci sono cose Che si notano Ovvio Passando proprio Al lato invece Più tecnico Del vostro sviluppo Possiamo chiedervi Da quanto tempo State lavorando A questo progetto Se si può sapere Al solito Da fine gennaio 2018 Quindi puoi immaginarti Quando siamo arrivati Dietro di quest'anno Proprio Non ce la facevamo più Avevamo voglia Di farlo vedere Avevamo voglia Di parlarne Però Stavamo aspettando L'occasione giusta E il partner giusto A livello di publishing E spesso Abbiamo avuto bisogno Sei io che farlo Parlando con i nostri colleghi Di spiegare anche il perché Se fossimo così Modalità furtiva Ormai da tanto tempo E magari Dello studio Non si parlasse tanto Però noi volevamo Che fosse il gioco A parlare E quindi Bisognava aspettare Che il gioco fosse pronto Ci fosse l'occasione giusta Per metterlo Per metterlo in risalto Peraltro Quando Scriviamo Alpha gameplay Sul Watermark È vero Cioè nel senso Tante volte È un po' Un gioco delle tre carte Quello del dire alfa Beta No no Questo è proprio così Nel senso Abbiamo fatto vedere Quello che potevamo mostrare In questa fase Che come Fabio diceva È ancora Molto poco Quindi siamo contenti Che sia piaciuto Non vediamo l'ora Di avere di più Da mostrare Però Chiaramente Non è qualcosa Che arriva a quel punto Dall'oggi al domani Ma andando avanti Quindi veramente Avremo il flusso Completo del gioco E potremo di volta in volta Concentrarci Su diversi aspetti E altri dettagli Da sviscerare Sto da facendo A parte che in chat Ci scrivono Perdonatemi Briar Unica regina Distruggimi Che sono sempre Messaggi interessanti Noi internamente Abbiamo già capito Che dovremmo fare Il kit per i cosplay Perché Ma specialmente Le ragazze Anche sui social Eccetera È stato molto apprezzato Anche perché Sai Il protagonista femminile La tendenza È di farla mezza nuda Cioè fare l'armatura Per i zoma E via Invece Han detto Guarda Un personaggio femminile Con un'armatura Ok È Anime È quello che vuoi Ma È un'armatura Che può proteggerla Da un certo punto di vista No? Sì 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 E quindi Abbiamo già capito Che dovremmo fare Il kit per i cosplay Per i cosplayer Perché ce lo stanno Cominciando a chiedere Ecco No anche perché Altrimenti diventa Tutto monolith soft Il mondo Se tutte quante Le guerriere sono nude Quindi bene Che non sia così Io sono molto contento Molto contento Di questo E tra l'altro Mi permetto di fare Un commento Che poi Il motivo per il quale Ho voluto ritagliare Questa oretta Che sta già finendo Ragazzi Ma arriviamo a un'ora e cinque Perché abbiamo fatto Cinque minuti di countdown Ma come immaginavo Avremmo potuto parlarne Per sette ore Di questo progetto Ho voluto ritagliare Questo spazio Per Solstice Perché nonostante Sia Un gioco italiano Non siamo qui A fare la narrativa Sul gioco sviluppato In Italia Che è bello Che è piacevole Ovviamente ricordare Che anche in Italia Esiste una scena Del videogioco Però qui Da 40 minuti Stiamo parlando Del videogioco Non di dove è stato sviluppato E quindi Sì Per insomma Poi prendere La palla lanciata da Samuele Si vede Che in realtà È un progetto Che arriva Con del lavoro Alle spalle Perché siamo qui A parlare di meccaniche Di personaggi Di idee E insomma Per me e Michele Che abbiamo vissuto Un E3 Nella quale a fatica Si estrapolavano Certe informazioni Anche in progetti più grossi Insomma Almeno per noi Lato giornalistico È una soddisfazione Immagino E spero lo sia Anche Anche per il pubblico Ci chiedono Dalla chat Perché a questo punto Parto anche con le domande Della community Ne ho qui sul cellulare E ne ho anche in chat Il compagno Ovvero la sorella Della protagonista Potrà essere gestita Sul gamepad Oppure no Cioè Sarà gestibile Direttamente Attraverso i nostri controlli Penso ad un astral chain Visto che leggo qui Questo messaggio Oppure va in automatico Ed è semplicemente Una passiva Del personaggio protagonista Non potrà essere controllato Entrambe le cose C'è loot Loot è un'intelligenza artificiale Che reagisce Ai pericoli Del campo di battaglia E man mano Il giocatore Con la sorella maggiore Combatte E vengono fatte combo E agiscono assieme C'è un valore Che noi definiamo unity Che è La sinergia Fra le due sorelle Man mano Che questa sinergia Cresce Cresce anche L'intervento Del giocatore Su loot A livello di controlli Ma in parallelo Cresce anche La possibilità Di loot Di agganciare Più di un bersaglio Alla volta Ok Ok Questa cosa Quindi entrambe le cose Loot È proprio Un'intelligenza artificiale Parallela al combattimento Sì Quindi quasi Proprio un'evoluzione Visto che parlavamo Prima del POD Di Nier Automata Mi fa venire in mente Questo livello Aumenta l'affinità Con il personaggio Sì è diverso Perché in Nier Automata Il POD È un'arma A tutti gli effetti Sì certo Spara Ok Loot non è un cannone Perché loot Se è nelle condizioni giuste E un nemico Ti sta sparando Da dietro O ti sta dando Una spadata In testa Loot Si gira da sola Dietro E blocca O rimbalza Il nemico Che tu hai le spalle Sempre rispetto Al valore di unity Tra le sorelle In quel momento Certo Questa è una scelta Che abbiamo fatto Per l'idea Che volevamo Permettere al giocatore Di dominare Diciamo così Il campo di battaglia Certo Senza necessariamente Avere dei nemici Che non facessero nulla Perché sai Ci sono tanti giochi In cui fanno la conta Per dire Attacco io No attacca tu E in questo caso Lo fanno Si permettono di farlo Perché tu non sei da solo Cioè Ok Il personaggio di loot Che controbilancia Questo tipo di dinamismo Allo stesso tempo Tu come giocatore Sei libero di scegliere I tuoi Sei libero Devi anche Sei chiamato A scegliere I tuoi bersagli Poi quando parlavamo Delle aure E dei diversi tipi Di nemici Perché Ce ne saranno Di differenti Che fanno cose diverse Ci sono quelli Che tengono la distanza E cercano di Check in arti E quindi Ti vado a prendere quello O vado a prendere Chi mi sta più vicino E che rappresenta Magari una minaccia Più prossima Tutte queste cose Fanno sì che rispetto Come ti Build il personaggio Rispetto alle cose Che momento per momento Decidi di fare Poi ogni Commattimento Potenzialmente sia Speriamo Il più variegato possibile Solo per essere sicuro Di aver capito bene Qualora appunto Poi magari dovessimo Dedicare anche Un articolo Un articolo scritto Alla cosa Queste interviste E trasformarla In un pezzo da leggere Questo valore di unity Di unità Tra i due personaggi Protagonisti Viene resettato Di lotta in lotta Giusto Oppure è qualcosa Che va avanti Dall'inizio Alla fine del gioco Perché per come L'ho interpretata io A ogni combattimento Parte da zero E può arrivare a Ok un valore alto È così Sì qui Diciamo che Andiamo proprio Nel dettaglio Del design Cosa ti posso dire È un valore Che primariamente Serve Al combattimento Quindi È un valore Che chiaramente Ad ogni scontro Quando il pericolo Finisce È un valore Che cala Fino a svalire E poi Risale Rispetto A come giochi Cioè Se tu fai Button meshing Il valore sale Ma non più di tanto Per esempio È un po' Lo stylish meter Di cui parlava Prima Michele Ma aiuta anche Appunto A migliorare nel gameplay Ci sono altre cose Poi che nel corso Del gioco Rappresentano Una crescita Del loro rapporto Sì a livello di storia Che a livello di gameplay Si sbloccano Delle cose Che non possiamo dire Ma che Andranno Andranno avanti Dandoti quell'idea Del Come si dice in inglese From zero to hero E sbloccare Tutto il loro potenziale Man mano che vai avanti Certo Quindi c'è anche Quella componente lì Ma questa di cui stavamo parlando Ora è interna Al singolo Al singolo Combattimento Ci chiedono intanto Da dietro le quinte Quali saranno Le piattaforme Di release Del gioco Noi lo sappiamo però Vogliamo comunicarlo Anche al pubblico PS5 Xbox Serie X S e PC Al momento abbiamo annunciato questo Ecco perché 40 domande erano Esce anche su Switch Quindi niente Ragazzi mi dispiace No No Tranne che quando uscirà Switch Pro Vero Michele? Quando uscirà Switch Pro Tutti quanti Così Michele tu avevi qualche altra domanda O magari una domanda Portata davanti Alla tua community No certo Avevo te le domande Che mi hai rubato Una per una Quindi sono soddisfattissimo No Scusami Io peraltro Chiedo scusa a Francesco Perché mi ha detto Guarda Secondo me abbiamo contenuti Per un'oretta Però Noi siamo qua Quindi Se sentite che c'è ancora Fermento Curiosità Per Sì sì Allora E' chiaro che Una domanda Che avevo È stata risposta Tramite Le altre Nel senso Un ultimo approfondimento Che si potrebbe fare Però Comincia a essere sottinteso Da quello che è il genere Quanto è stato Approfondito In maniera verticale Così via È Questa progressione di gioco È Una sorta di Avventura Che parte da un inizio E arriva a una fine Come se fosse Un percorso continuativo Oppure Ci sono veri e propri Livelli Cioè si parte da un punto A Si arriva a un punto B C'è una pausa E si riparte da un punto A Quindi proprio Non dico proprio Il select screen Però C'è un sistema Di Quadro E Stage Oppure no Si va È un'avventura Haken slash In cui però si parte Guarda Siamo partiti Dalla cosa Più bella E vecchia del mondo Ovvero Il primo Davy May Cry Ok Siamo tutti d'accordo Che chiaramente Usava le camere Di Resident Evil Eccetera Certo La scala Era interessante Il mono setting Gigalitico Una divisione a missioni Che però In realtà Se tu toglievi L'interfaccia Che ti fermava Tra un punto E l'altro Il gioco Era continuativo Ok Ok Ma infatti Credo che In linguaggio In linguaggio Sanscrito La domanda Di Michele Fosse Solstice È più Davy May Cry 1 e 3 O è il 2 Questo è quello Che voleva dire Michele No 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 Però ho capito Allora Se mi parli Di Davy May Cry 2 Mi alzo E me ne vado No no Vabbè Perché Nei tanti disastri Che ha fatto Quel gioco lì Ci sono anche Dei livelli Completamente scollegati Non si capisce Dove sei partito Dove sei arrivato Per ora Scherzi a parte Quindi la progressione Di Solstice È unica In realtà C'è una divisione In missioni Magari Ma comunque L'ambiente è unico Il gioco È suddiviso In parti Per permetterti Di avere un feedback Di poterti migliorare Di fare le cose Che tu devi fare Come giocatore All'interno Un gioco del genere Ma è continuativo Non hai Sono ai Caraibi E poi sono in montagna Poi sono al lago Metal Gear Solid 1 Monolocation Una storia Che ti fa partire E ti porta Al finale In una monolocation Che diventa Mondo di gioco Con tutte le sue Differenzazioni All'interno Ma non Splinter Cell Missione in Arabia Saudita Missione a New York No Questo no Certo Quindi ok 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 C'è una continuità Non c'è soluzione Ecco Di continuità In questo senso A me personalmente Ovviamente fa piacere Ora qui Si va a solleticare Poi il gusto Di ogni videogiocatore In ascolto Però per me Ovviamente Non può che essere Un valore aggiunto Sto scandagliando La chat Per vedere Se ci sono Altre domande Perché io ne ho una Ma voglio vedere Prima se magari Il pubblico Ci ha detto qualcosa Intanto Mattia chiede Di che gioco Stiamo parlando Stiamo parlando Di Solstice Sviluppato da Reply Game Studios Un action Hack and slash Come preferite Che venga definito Hack and slash Va bene And slash Character action Action adventure Alla fine Poi conta Conta quello che si vede È vero È vero Diciamo che l'unica cosa Che magari Scusate Ma un problema tecnico Mi alzo un secondo Che è un problema tecnico Si sta spegnendo Il mega televisore Non preoccuparti L'unico Magari Dubbio che può venire Rispetto alla direzione artistica Per cui qualcuno Magari vede Un singolo screenshot Pensa a un Dark Souls Dark Souls Siamo ispirati Per la direzione artistica Per il Cosetto Grim Dark Però poi a livello di gameplay Stiamo andando Chiaramente in un'altra In un'altra direzione Mi sento di dire Che si vede Nel senso E va bene Si vede che siamo Che non è Mondo Souls Anche se No no Assolutamente Però sai Tra il titolo E quello che magari Uno vede lì Di primo acchito Però Ci piace tantissimo Quel tipo di genere Non è quello che abbiamo scelto Per sviluppare il nostro gioco Abbiamo invece Preso ispirazione Per la direzione artistica Anche perché Bayonetta Davy McCray Sono più contemporanei Come mondo Anche se ha degli elementi Sopranaturali Nero otto amato Più post-opocalittico Ci sembrava Paradossalmente Che mancasse un po' Qualcosa di quel tipo Sul medievale Dark Fantasy Che poi È un'ambientazione Che ci piace sempre tanto Abbiamo detto Tuttiamoci a pesce lì Che creiamo Cerchiamo Cerchiamo il nostro spazio In quell'ambito Guardate Io Tenevo a dire una cosa Se me lo permettete E ci mancherebbe Il riscontro Sul nostro annuncio È stato Grandioso Cioè Ho visto le persone Che hanno capito Che gioco è Hanno capito Le reference E C'è qualcuno Dubbioso Perché vede nel video I nemici Che sono un po' Tentennano Diciamo Non attaccano Allora Diciamo che Quei nemici Sono Prettamente Un po' La carne da cannone Che i giocatori Si troverà All'inizio del gioco E poi Il problema Vero È che Il combat system È molto veloce Quindi Ed è molto Secondo me Appagante Perché ti permette Di far fuori Tantissimi nemici Specialmente Quelli base Facilmente E quindi Stiamo dosando Un po' Il tuning E la reazione Dei nemici Anche per rendere I combat Appaganti Molto appaganti Finché Non ti arrivano Le trambate in testa E allora Quelle ti fanno Un po' Abbassare la cresta E capire che Sì sei forte Non sei un essere umano Sei un super umano Ma c'è qualcuno Che al momento È più super umano Di te Quindi Volevo soltanto Chiarire questa cosa Perché ho visto Alcuni commenti Chiaramente Che nel video Si vedono Questi personaggi Questi nemici Che Non attaccano Ma perché Non attaccano Perché noi Stiamo falciando Nel video Stiamo falciando I boss Però sembrano Un po' più reattivi Quindi insomma I boss I boss Fanno male Ma anche Altri nemici Fanno male Ma ripeto Non è Un dark souls Cioè dipenderà Sempre dal tuning Che è in corso d'opera Assolutamente Noi adesso Abbiamo tutto il gioco Con alcuni contenuti Non ancora rifiniti Ma il gioco C'è tutto Ci sono tutti i boss Tutta la storia Abbiamo già tutto il perimetro Non abbiamo Diciamo Un pezzettino E Il limbo Di fronte a noi Chiarissimo Ho una domanda Che mi ronza Nella testa Da qualche minuto Componente esplorativa Invece Se doveste definire Quanto è presente Nei vari livelli Perché ovviamente Nel trailer È giusto che sia così Vediamo solo combattere Perché è il fulcro Dell'esperienza Ma c'è anche qualcosa Da cercare All'interno dei livelli O è un progredisco Dal punto A Al punto B Semplicemente Ammazzando tutti quanti I nemici In linea retta La usiamo Per variare un po' Il ritmo Ok Quindi La struttura di livelli Principalmente lineare Il gioco è Combat driven Prima di tutto Perfetto Però poi Tra un elemento e l'altro C'è la necessità Di costruire un ritmo Di costruire un Montaggio Tra virgolette Interno del livello E non puoi sempre andare a mille Perché se no Poi ti annoi Banalmente Ci sono comunque Come diceva Fabio Dei detour Delle deviazioni Singoli parti di livello Dove puoi trovare Delle risorse Che poi userai Per appunto Progredire Attraverso I vari sistemi Per le due protagoniste E a volte Poi il discorso D'esportazione Si lega anche Al discorso Della narrativa Ci sono Altri elementi Che poi mostreremo Più nel dettaglio Più avanti Che fanno proprio Capo a Quello che è successo In questa città Perché è ridotto In queste condizioni Che cosa ci fai tu lì Perché non ho andato Proprio te E queste cose Appunto Fanno capo A un'esplorazione Che fa parte Un po' Della parte Magari un po' più Di atmosfera E anche di storytelling Per tutte le cose Che man mano Poi riusciamo a raccontare Anche perché loro Sono sempre insieme Sono sempre insieme A schermo Anche questa è una chiave Che non abbiamo Ci di utilizzare Per raccontare La storia Chiaramente Una strategia Poi secondo me Il valore aggiunto Che qui abbiamo Un pezzo da 90 Le due protagoniste Siamo riuscite a conoscere Stephanie Josten Che è la Quaity Di Metal Gear Solid 5 Io gli sono letteralmente Saltato addosso Ad una A una Gamescom L'ho incrociata Samuela A un certo punto Ma ha visto girarmi Come un androide L'abbiamo conosciuta E da lì È nata Questa collaborazione Lei Avrà L'onere Di doppiare Entrambe Le sorelle Come ha fatto Nel teaser Perché nel teaser Nel nostro trailer Di annuncio È Stephanie Che doppia Le due sorelle E a Stephanie Il progetto Appena gliel'abbiamo Ha fatto vedere Ha detto Sì sì Mi interessa Parliamone Perché È È una di quelle cose Che a me piace molto In italiano invece Sarà doppiato E di questo siamo contenti Visto che parliamo di doppiaggio Sarà sottotitolato Sottotitolato Però avendo la possibilità Di attivare queste collaborazioni Siamo contenti Di dare Il maggior risalto possibile Anche perché chiaramente Poi sull'Italia Quindi l'unica parlata Sarà l'inglese Al momento è previsto questo Come c'è scritto Anche sulla pagina Sì c'è un vari dettaglio Sulla lingua in cui sarà localizzato Chiaramente c'è l'italiano E altre lingue Quindi questo è l'impianto di base Collega Vuole aggiungere qualcosa? Perfetto Ora sono Abbiamo fatto 360 gradi comunque Anche secondo me Molto più In profondità di quanto pensasti Quindi stupendo Il publisher Si era tanto raccomandato Quando mi hanno iniziato A fare interviste Le live Dire non dite questo Quest'altro Però Anche rimanendo sul vago Tanto bene o male Sono cose che si possono inferire O dedurre dal trailer Poi ci sarà modo di sviluppare Nel dettaglio Ciascuna di queste Più avanti Per cui Tanto siamo contenti Di avere un gioco vero Di cui parlare Del giocato vero Da mostrare Siamo felici Del fatto che sia stato Anche apprezzato Perché in tanti dicevano Uffa però Alifree Sono tutte Sequenze Magari In CG Non si capisce Che gioco sarà Invece in questo Diciamo abbiamo cercato Di essere onesti Ed è quello che Insomma Quello che abbiamo E quello che abbiamo Fatto vedere Guardate io Allora Prego Anche Anche per rispondere Magari A certi Commenti del tipo Ma perché non fate Il gioco di Berserk Magari Magari Però è chiaro Che magari Alcuni giocatori Non essendo Diciamo Mai rinformati Non sanno Quanto è difficile Riuscire A poter Lavorare Su delle IP Che non possiedi Noi abbiamo deciso Di creare La nostra IP Perché volevamo Essere sicuri Di poter raccontare Quello che potevamo Anche farvi giocare Quando tu Hai in mano Un IP Secondo me Rispetto all'IP Le IP Richiamano Il tipo di gioco Che tu devi fare Ok E la scala E quindi Non è banale Però è chiaro Che se in futuro Potessimo avere Opportunità di fare Avere per le mani IP del genere Sarebbe fantastico Poi noi comunque Chiaramente Ci auspichiamo Che quello che abbiamo Creato Vada bene Se no Non avrebbe senso Leggo una domanda Che è arrivata in chat Prima di salutarci Che probabilmente Non troverà Una risposta Perché altrimenti Il cecchino Di Modus Games Qua fuori Mi fa terminare La live Però la leggo Lo stesso La storia Complessivamente Chiede Edo Pomp È pensata Per avere un seguito O è conclusiva Cioè Quando avete iniziato A pensare al videogioco Pensavate Raccontiamo una storia O raccontiamo Un universo Creiamo un universo All'interno del quale Raccontiamo Una storia E poi ci fermiamo Bella 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 risposta Oggi sono belle risposte Beh Allora L'appuntamento È per il 2022 Ancora Non abbiamo Né una data Né un mese Ma insomma Speriamo che arrivino presto Altre novità In merito Solstice Di Reply Game Studios In uscita Per PS5 Xbox Serie S Serie X E PC Corretto? Solo su Next Gen Dunque Sì sì C'è bisogno Di un bel Carburatore sotto Per muovere tutto E avere Il giusto frame rate La giusta latenza Eccetera Quindi abbiamo detto Andiamo lì Allora io intanto Chiedo un Pogometro In chat Per Insomma Valutare Il livello Di hype Per questo progetto In chiusura di diretta E intanto Ringrazio Sia Samuele Che Fabio Per essere venuti Qui Con noi Ovviamente Michele Per avermi affiancato In questo Q&A Spero di riavervi qui Magari tra un po' di tempo Quando ci farete gustare Un nuovo trailer Dei nuovi momenti Di combat Volentieri Assolutamente Sì Le chiacchierate Fra merda Lo ripeto Sono la cosa migliore Delle mie giornate Eccolo Il pogometro Sta andando Comunque Vedo Quindi c'è effettivamente Un po' Un po' Di hype E vedremo di riscaldare Allora questo hype Nei mesi a venire Ragazzi Io vi ringrazio infinitamente Per questo Momento proprio Di divulgazione Del vostro progetto E vi auguro Ovviamente Un buon lavoro A buon rendere Ci ribeccheremo In questo crocevia Quando avrete Qualche informazione In più Perfetto Grazie mille Ciao a tutti Grazie mille A presto E vi lascio Al resto Della programmazione Di Avriai Ciao E buon weekend Se non ci vedete